Benvenuti, siamo in compagnia del Lenovo S5000, il nuovo prodotto di appunto di Lenovo, di casa Lenovo, il tablet con Android 7 pollici, questa è giusto un'anteprima proprio rapidissima per farvi vedere un attimo anche esteticamente il prodotto, seguirà a breve una recensione completa, una preview completa quindi del prodotto. Grazie, ciao a tutti.